Caribou Kenya, benvenuto in Kenya, hanno gridato il coro e i danzatori che hanno accolto Papa Francesco all'aeroporto di Nairobi, prima tappa del suo viaggio in Africa, e le migliaia di keniani che hanno accompagnato il pontefice nel suo percorso fino allo State House, il palazzo presidenziale. Ricevuto dal presidente Hururu Kenyatta con gli onori militari, il pontefice ha firmato il libro d'oro e poi ha incontrato il capo di stato e la sua famiglia. Mungu Abariki Kenya, Dio benedica il Kenya, ha detto in Swahili il pontefice a conclusione del suo discorso alle autorità del paese e al corpo diplomatico, nella grande tenda allestita nel giardino della State House. Ha ricordato che il Kenya è una nazione giovane e vigorosa che, come molte altre in Africa, cerca di edificare una società multietnica che sia realmente armoniosa, giusta e inclusiva. Papa Francesco ha quindi fatto appello ai valori della conservazione delle grandi risorse naturali e del rapporto tra uomo e natura radicati nell'anima africana, per chiedere ai governanti sforzi per promuovere modelli responsabili di sviluppo economico, perché esiste un chiaro legame tra la protezione della natura e l'edificazione di un ordine sociale giusto ed equo, ha detto il Papa richiamando l'enciclica laudato sì. L'obiettivo primario deve essere il perseguimento del bene comune, perché, ha spiegato Papa Francesco, l'esperienza dimostra che la violenza, il conflitto e il terrorismo si alimentano con la paura, la sfiducia e la disperazione, che nascono dalla povertà e dalla frustrazione. E quindi, ha concluso il Pontefice, vi chiedo di mostrare una genuina preoccupazione per i bisogni dei poveri, per le aspirazioni dei giovani e per una giusta distribuzione delle risorse umane e naturali.